Le donne dirigenti, le donne imprenditrici, le donne manager si dimostrano, noi l'abbiamo dimostrato con dei dati, che quando guidano un'azienda, quell'azienda ha performance molto buone, alle volte migliori per certi aspetti, falliscono meno, hanno meno conflitti interni. I dati arrivano da una recente ricerca curata dalla consigliera di parità del Veneto. Le imprese in rosa nella nostra regione sono 60.134, pari al 24,2% del totale. In Veneto una donna su tre è laureata, mentre il rapporto scende a 1 su 4 per i maschi. Nonostante questo, le donne faticano a fare carriera più degli uomini e scontano stipendi inferiori a parità di ruolo. Il tema è stato al centro della discussione dell'Assemblea Nazionale di AIDA, l'associazione delle imprenditrici e dirigenti d'azienda ospitata nelle scorse ore a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale. L'entusiasmo che noi possiamo mettere, l'efficienza, il senso di responsabilità e a volte anche l'eleganza che riusciamo a mettere in queste nostre attività può aprirci molte strade. Io sono convinta che le quote rosa ci sono, però possono essere veramente bypassate con la nostra forza di volontà, che è veramente molto, molto forte. Grazie a tutti.